Il gioco non sembra ancora fluido e non si vedono azioni particolarmente pericolose anzi spesso si perde la sfera come in questa occasione molto banalmente senza riuscire neanche a portarla in avanti mentre ci prova Landini Traversone, Campidonico e rete di Campidonico Settimo minuto del secondo tempo Campidonico riesce a appoggiare in rete una palla di piatto che Marigo era riuscito a fermare in un primo momento ma la corsa della sfera era continuata fino a superare la linea fatale